E' una grande occasione, quest'anno poi la scelta di vivere questi giorni fra quello che è l'apertura a Torre del Lago, a Via Reggio, ma che trova il suo sviluppo a Siena. E' veramente un festival toscano, nel senso anche della pluralità delle sedi e dei luoghi di dibattito e di esposizione, di attività che si svolge in Toscana. In un momento quanto mai attuale, perché noi abbiamo bisogno, accanto al far fronte ai servizi e a quella che è la situazione, che è sempre una situazione comunque di emergenza sanitaria, anche di pensare in senso strategico, di pensare ai vari aspetti che focalizzano l'attenzione sul sistema di vita e di salute che dobbiamo assicurare al futuro. E quindi veramente l'orgoglio da parte mia di vedere la Toscana pienamente coinvolta con un festival della salute che si presenta con un'occasione di richiamo nazionale, ma anzi direi internazionale. Direi un festival di grande importanza, abbiamo deciso insieme alla mia giunta, è il secondo anno che noi facciamo questo festival della salute e l'assessore si è molto speso, l'assessore Appolloni si è molto speso per l'organizzazione del festival. Credo che Siena, come Via Reggio, del resto e anche come tutta la Toscana, siano un'eccellenza per quanto riguarda la sanità e la salute, perché spesso si confonde la sanità con la salute, alloché si parla di strutture e di amministrazione. In realtà la salute va declinata su tutti i territori, ecco l'importanza quindi di andare su territori per parlare proprio di quello che è uno dei nostri obiettivi principali. Abbiamo, sapete, un ospedale, fra l'altro anche con cliniche universitarie, di grandissima importanza. E abbiamo soprattutto le scienze della vita con TLS che noi speriamo siano un luogo di attrazione e un luogo scientifico che serva proprio per incrementare sempre di più la salute nell'ambito, diciamo, non solo della Toscana ma di tutta Italia. Noi puntiamo molto sul distretto delle scienze della vita e quindi questo tipo di festival a noi serve anche come cardine, come elemento focale proprio per questo tipo di iniziative.